Quello che si pescava una volta, non si pesca più. Vada là. Se adesso mi sembrava di fare lo sì, mi dà. Ricordate una cosa. Gli aspetta sempre la legge. Angelo, ma tu sei sicuro di quello che stai facendo? Bassallo, tu parli troppo. Tu sai come si fa a fare funzionare un'amministrazione comunale? Sì, basta fare il contrario di quello che fanno loro. Bassallo. Ho incontrato un paesanno e gli ho chiesto che cosa ci vorrebbe per questo paese. Eh? Una fontana che gli ha detto solo. Guarda che fontana che c'abbiamo. Perché questo deve ridiventare la nostra terra. Però nel rispetto della legge. Sergio Castellitto è il sindaco pescatore. Prossimamente Rai Uno.